eccoci qua dunque in questo video nasce perché c'è stata una richiesta ben precisa da parte di alcuni di voi a proposito dell'app intelligent hybrid in effetti io l'ho utilizzata ne ho parlato molto a proposito del navigatore e addirittura ho fatto una challenge divisa in due video la challenge intelligent hybrid dei 100 chilometri autostradali 50 all'andata con l'intelligent hybrid acceso e 50 di ritorno senza per vedere come interveniva a proposito della gestione della batteria quindi andate a vedere eventualmente queste due questi due video che strutturano insieme questa challenge molto interessante però alcuni mi hanno detto ma ma dove si attiva dove si trova l'app intelligent hybrid in effetti ho dato per scontato che fosse abbastanza evidente o facile trovarla in effetti non è così è una sorta di app nascosta per cui restate qui e vediamo subito insieme come riusciamo a installarla e dove accidenti si trova bene diciamo che questo video nasce da una richiesta ben precisa che è quella di andare a vedere dove si trova l'intelligent hybrid e come poterlo utilizzare beh su come poterlo utilizzare rimando naturalmente ai video in cui lo spiego in particolar modo le due challenge dei 100 chilometri in autostrada qui andiamo a vedere effettivamente alcune delle nostre app nell'altro video io spiego anche come modificare personalizzare l'infotainment andando a modificare le icone qui sotto delle nostre app le scorciatoie anche le impostazioni dei dei widget che sono questi qui andiamo a vedere per esempio l'app intelligent hybrid nello specifico quando l'icona il pulsantino dell'infotainment assume questo aspetto come sapete noi accediamo passiamo dalla visualizzazione dei widget che è questa alla visualizzazione delle app un po come accade con uno smartphone naturalmente qui trovate tutte le app che immagino già conoscete utilizzate nel mio caso apple carplay ma insomma naturalmente in altri casi avete android auto o nel caso di una ibrida avete app particolari come e manager l'app e manager è un app su cui mi sono soffermato approfonditamente in un altro video quello appunto in cui analizzo la programmazione delle ricariche è un video che abbiamo già sul canale che potete andare a vedere se ovviamente avete un'ibrida e volete sapere un po di più come impostare tutti i vari parametri i vari settaggi delle ricariche bene torniamo alle nostre app quindi dai widget passiamo alle app e effettivamente noi non troviamo qui l'app intelligent hybrid troviamo l'app questa qui che io non nomino perché altrimenti si attiva interrompe di fatto il mio video e su questo trovate un video in cui nel dettaglio spiego passo passo tutte le procedure tutto quello che serve per scaricare installare poter utilizzare questa app che ripeto non nomino come nell'app di amazon diciamo così ed è ovviamente un video che vi consiglio perché molti riescono a installare quest'app ma poi non riescono a utilizzarla perché manca come dire un passaggio quindi vi rimando a quell'elemento a quel video andiamo nuovamente alle nostre app come vedete ho tenuto un po premuto un po più a lungo il pulsante principale dell'infotainment e sono entrato nella modalità service quella degli aggiornamenti e aggiornamenti non della del software ma aggiornamenti della versione del software quindi proprio un vero e proprio cambio del nostro software a noi questo non interessa quindi torniamo alle nostre app effettivamente intelligent hybrid non compare dunque da dove si mette allora in effetti intelligent hybrid è un app che è presente soltanto come widget cioè lo possiamo inserire soltanto tra i widget quindi non dobbiamo avere la visualizzazione delle app ma passare alla visualizzazione dei widget scusate ma con una mano allora bene io qui sono nel secondo pannello va bene dei miei widget questo è il primo andiamo al secondo io ho impostato per fare questo video questo widget centrale che è quello dell'e-manager in realtà io non utilizzo questo widget perché non mi serve a nulla qui io programmo le mie ricariche eventualmente dall'app che vi ho fatto vedere prima cioè questa qua va bene e quindi non mi interessa poi avere il widget sempre pronto per sapere un po' quando sarà la prossima ricarica cioè alle 8 magari di domani mattina ma l'ho inserito proprio per fare la prova con voi e verificare come tutto sommato sia facile installare l'intelligent hybrid cosa bisogna fare bisogna andare a sostituire uno dei widget in questo caso io sostituirò questo ma ovviamente ciascuno farà come meglio crede e in questo caso come avete visto anche nell'altro video in cui spiego come personalizzare app e widget bisogna semplicemente tenere premuto il widget che vogliamo modificare come vedete compare il pannello delle app e dei widget che io posso inserire al posto del widget che ho selezionato che ho premuto bene e per magia ecco subito che compare la nostra nascosta segreta app intelligent che è proprio l'intelligent hybrid le altre gli altri widget che possiamo inserire li conosciamo già e sono presenti anche come app e questo è un po' il trucchetto che sta dietro intelligent hybrid che a differenza di tutte le altre gli altri widget che sono presenti anche come app e questo non è presente come app nell'infotainment chissà magari è un bug da segnalare a seat cupra in ogni caso c'è il modo di inserirlo ed è proprio proprio questo come ho spiegato nell'altro video sulla sui widget non tutti i widget possono essere inseriti più volte vedete intelligent è evidenziato in bianco mentre la navigazione no probabilmente dal video non risulta questa differenza in maniera così nitida non posso inserire il navigatore perché naturalmente l'infotainment può gestire un navigatore alla volta non due e quindi non è possibile avere due widget della navigazione ma posso avere più widget per esempio della climatizzazione perché con uno gestisco per esempio la temperatura e con un altro per esempio gestisco le scorciatoie della climatizzazione a proposito anche su questo qualcuno mi ha chiesto di fare un video in cui spiego un po' esploro un po' le varie diciamo i vari funzionamenti del climatizzatore bene ma qui restiamo all'intelligent hybrid per non dilungarci troppo per cui ecco che con un semplice tap abbiamo inserito l'intelligent hybrid tra i nostri widget ed è l'unico modo per averlo a disposizione nell'infotainment e quindi poterlo utilizzare ed attivare come vedete risulta già attivato con questo segno di spunta che significa che indipendentemente dalla mia destinazione in questo caso ho messo questa destinazione ma in realtà io non ho impostato alcuna destinazione e verrà risparmiata batteria per tornare a casa quindi la mia destinazione finale non sarà mai il luogo in cui io andrò ma sarà sempre casa dove io ricarico l'auto in questo modo lui farà in modo di farmi tornare a casa con un po' di batteria quindi molto semplice l'utilizzo se io elimino questa spunta la mia destinazione è anche il posto in cui in teoria dovrò poi ricaricare nel momento in cui arriverò e dovessi arrivare con una batteria scarica coincide la destinazione con il punto di ricarica nel senso che l'auto dice guarda ti porto a quella destinazione utilizzando tutta la batteria se sarà il caso ma se io attivo questa spunta ecco che lui farà in modo di conservare la batteria anche per tornare a casa tutto questo a patto che io utilizzi il navigatore per cui la mia raccomandazione che avete sentito probabilmente già in altri video utilizzare sempre il navigatore dell'auto molti se ne lamentano io sinceramente non lo trovo così brutto così complicato insomma non efficiente mi ci trovo parecchio bene è importante utilizzare il navigatore dell'auto e in questo caso con un'ibrida direi fondamentale magari con un diesel con un benzina non è poi così importante ma con un'ibrida sì perché il navigatore gestisce al meglio l'ibrido quindi la combinazione di termico ed elettrico e in questo caso addirittura calcola come utilizzare la batteria per farci tornare a casa con un po' di batteria e non soltanto con il motore a benzina che come sapete non ha molto senso in un in un veicolo ibrido se volete dei chiarimenti basta premere qui e qui vi spiega in maniera sintetica che cosa serve l'intelligent hybrid che è più o meno quello che vi ho detto io finora la modalità intelligent hybrid consente di gestire la batteria del veicolo in modo efficiente la batteria è usata per guidare in modalità elettrica attraverso le aree urbane a seconda della destinazione selezionata per la navigazione quindi nuovamente molto importante impostare la destinazione nel navigatore l'intelligent hybrid per esempio ci farà andare in elettrico e quando passeremo da una zona urbana o con una zona trafficata nel navigatore sono segnalate le condizioni del traffico in caso di traffico eccessivo per esempio non verrà attivato il termico e così via in base al percorso con magari una velocità un po più alta autostrada una statale a scorrimento un po più veloce invece la batteria verrà risparmiata e così via tutto in maniera molto automatica direi efficiente ma andate a vedere la mia challenge sul sull'utilizzo dell'intelligent hybrid soprattutto in autostrada per capire cosa effettivamente e come effettivamente interviene l'intelligent hybrid direi che per adesso è tutto e quindi magari ci vediamo prossimamente sul canale con altri video ciao ciao